Benvenuti su TR24 Sport. Le novità tattiche introdotte da Andrea Camplone hanno comportato grossi benefici per il gioco espresso dal Cesena. Di questo è fermamente convinto anche Musa Kone, come vediamo nel servizio. È un Cesena che cresce partita dopo partita. Stiamo cercando di fare al meglio quello che ci chiede il nostro allenatore. Cerchiamo di dare continuità a questa crescita e a questi risultati positivi. Un fattore decisivo per l'evoluzione del gioco e del gruppo è stato il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 voluto da Mr. Camplone. Sicuramente questo modulo ci dà più copertura. Abbiamo un uomo in più, siamo un po' più equilibrati dietro. Ci facilita anche noi centrocampisti oppure ai quinti di cercare di attaccare un po' di più. Prossimo impegno sabato alle ore 15, la pericolosa trasferta della Rechi contro la Salernitana. Gara valida per la 26esima giornata di Serie B. È un campo difficile, giochiamo da loro, partiranno subito forti, aggressivi. Ma comunque noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e andiamo lì cercando di fare la partita e di portare a casa qualche punto importante. Per il basket non ci si giocherà solo la Coppa Italia domenica prossima a Rimini. Prima della finalissima infatti ci sarà tempo per ammirare lo Slam Dunk Contest. La gara delle schiacciate che coinvolgerà i giocatori delle squadre che non prendono parte alla Final Eight. I quattro protagonisti sono stati selezionati direttamente dai tifosi e sono Rafael Gaspardo, Riccardo Moraschini, Rafael Putni e Norvel Pelle. Otto invece i cestisti che si sfideranno nella gara del tiro da tre punti. Mian, Cinciarini, Pilepic, Ceron, Petway, Baldi Rossi, Johnson e Alibegovic. Ma parliamo ancora di basket, non ci sono soltanto i grandi risultati conseguiti da Lorassi Ravenna ad alimentare i sogni dei tifosi giallorossi. In queste settimane ferme anche il dibattito sulla possibilità di costruire un nuovo palazzetto dello sport che possa diventare la nuova casa della Piero Manetti. Sentiamo allora il parere della Presidente Roberto Vianello. Non sono stato solo io che ho detto che è necessario fare un nuovo palazzetto. Che Ravenna non esista se non il pala di Andrea che non è un palazzetto dello sport. E' un'assurdità. Tutti lo vogliamo. Io credo che questa amministrazione forse sia partita proprio col piede giusto. E credo che stavolta dalle parole si possa passare i fatti. I tanti risultati positivi dei giallorossi di coach Antimo Martino hanno permesso di disputare un campionato sopra ogni aspettativa. Ed ora la testa della classifica occupata da Treviso dista solo quattro punti. Sognare è lecito. Sì sì ma in effetti se quest'estate, l'estate scorsa qualcuno ci avesse detto che ci saremmo trovati oggi in queste condizioni non ci avrebbe creduto nessuno. Io per primo insomma è una cosa straordinaria. Speriamo che duri. Non solo per le vittorie, per la tua sera. Allora il Presidente spera ardentemente di arrivare ai play-off. Il tifoso vorrebbe arrivare fra le prime quattro. E si è conclusa nella notte italiana la prima giornata di test ufficiali della MotoGP a Filippa Island. In Australia le prove sono state condizionate dal forte vento. Aumentato di intensità nel pomeriggio ma sotto la bandiera scacchi ha terminato in prima posizione Mark Markets su Honda. Col tempo di 1.29.497 seguito dalla Yamaha di Valentino Rossi e Andrea Iannone su Suzuki. Dovizioso ha chiuso dopo 64 giri all'ottavo posto con la sua Ducati ufficiale. Questa notte alle 23.45 ora italiana scatteranno le seconde prove libere sul circuito australiano. Ma parliamo anche di calcio giovanile. L'Endas Monti si è qualificata in questi ultimi anni come un'autentica istituzione sociale per lo sport giovanile a Ravenna. La società bizantina si è specializzata nella valorizzazione di talenti che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio. Come Sara, giovane calciatrice che sentiamo nel servizio che ci è stato confezionato dagli amici di Golè. Vediamo allora. Tua mamma cosa ti ha detto quando hai iniziato a giocare a calcio? Era felice, cioè era un po' inquieta. Non sapeva come andasse a finire perché ci ho messo tanto tempo a convincerla. Lo segui calcio femminile? No. Dove ti piacerebbe arrivare a giocare? Nell'Italia. Hai mai fatto gol? Quando ho giocato con San Zaccaria. Il tuo amoroso cosa dice? Che sono scarsa. Uno slogan per tutte le altre ragazze che vorrebbero iniziare a giocare? Non dare in retta agli altri. Perché devi seguire il tuo istinto e se ti piace giocare a calcio, bene anche. È bellissimo giocare a calcio, secondo me. Praticamente mio padre non voleva che io giocassi a calcio. Si è convinto di sta cosa neanche un anno fa. Cioè io gioco da due anni e mezzo circa. Cioè secondo lui io dovevo continuare a suonare il flotto attraverso. Non veniva neanche a guardarmi le partite. Però ora è bravo. Cioè è troppo. Quindi hai cambiato? Sì. Che cosa l'ha fatto cambiare? Mia mamma... No, ha visto che... Cioè ci teniamo davvero. È il momento adesso di andare a vedere anche le notizie riportate sui quotidiani in edicola. Già a partire da questa mattina. Siamo sul Corriere di Romagna. In primo piano il basket e la tegola per l'Andrea Costa Imola che perde Prato per un mese. Mentre per il calcio, Balzano, per il Cesena, il gruppo ci salverà. Ma ancora sul basket l'Unieuro e il dilemma Reati. E da ultimo scatta la tre giorni di test in Australia. Parliamo chiaramente della MotoGP. Questo per quanto riguarda, come detto, il Corriere. Stiamo sulla voce di Romagna che introduce l'argomento Champions League con la favola di Avarà. In 24 mesi dal Titano al Bernabeu. L'esordio italiano al San Marino Stadium il 2 febbraio 2015 contro l'Ascoli. E dopo il campionato alla Bologna questa sera con il Napoli. Sfida il Real Madrid nel suo tempio. E proprio a tal proposito andiamo a vedere il QS Sport per quanto riguarda il resto del Carlino. Sogno reale. Il Napoli ci crede. Possibile l'impresa nell'andata di Champions. A Madrid con 10.000 tifosi al seguito. E poi ancora clamoroso in Champions. Verratti stende il Barcellona 4-0. Peseje stellare. Messi quasi eliminato. Continuiamo allora a parlare di Champions League e ci ascoltiamo l'opinione di Luciano Poggi. Siamo in piena Champions, si è visto. Ma sono arrivate già le prime sorprese di questi quarti. I quattro gol del PSG alla Barcellona fanno storia davvero. Già i giornali oggi parlano di un ciclo finito. Pare che i big del Barcellona siano in netta contestazione con l'allenatore. Beh, questo depone comunque a favore di chi dice che il ciclo del Barcellona potrebbe essere finito. almeno il ciclo con quello allenatore. Sta di fatto comunque che il Barcellona ha perso 4-0 e che si fa difficile davvero il suo rientro nella possibilità di poter accedere alle semifinali e di poter andare avanti ai quarti di finale. Anzi, si fa veramente difficile. Questo preambolo per dire cosa? Per dire che il Napoli questa sera ci deve provare. Una spagnola è in difficoltà, l'altra chissà che non ci vada in difficoltà contro il gioco spumeggiante dei partenopei. E allora non ci resta altro che seguire il Napoli e ovviamente continuare a tifare Napoli. E con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Potete comunque rivedere i programmi del nostro palinsesto sportivo sul canale 192 di Teleromagna Sport oppure avere maggiori informazioni visitando il portale tr24.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.